ed eccoci qua nel settantottesimo episodio di minecraft ita ho dovuto registrare l'episodio 62 perché non me l'aveva salvato e quindi ho dovuto prendere un po di terra perché stavo facendo video dove tappavo un po non mi devi rompere le scatole amico mio mamma mia io non ne posso più quindi devo andare in immediato a tappare un po quindi sarà il contino delle giorni 62 non è vero ma ora andiamo un po avanti per questo video però durare un pochettino di più del solito vi ricordo di lasciare un like campanella e iscrizione al canale ora possiamo iniziare con le serie con l'episodio 68 allora in questo episodio ho in mente di prendere altri libri visto che ho scavato altri questi per potuto fare anche il 64esimo episodio e ho scavato veramente veramente tanto quindi se non cosa volevo fare volevo fare altri libri come si fanno ho preso blaze rod ho preso questi blocchi me l'hanno andati i piglin nella vabbè è nella fortezza che c'era questa me l'avevo trovata nella barca questi li ho trovati non ho tantissimi diamanti ma giusto 40 di nederite che me l'hanno data sempre i piglin quindi adesso devo andare a prendere ovvio che si non porterò il mio cagno li anzi si vuole portare il mio canne dentro l'hand e fargli vedere l'esplosione del drago quando ci andremo ma ci andremo fra un po' no? fra un po' ci andiamo quindi un bel po' ehi 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 andiamo un attimino a vedere se la farm ha effetto però no no ci voglio andare dopo alla fine del video voglio un attimo andare a vedere insieme a voi non lo so ma c'ho state impressioni che ah avevo già fatto un libro di protezione 1 se non sbaglio avevo già craftato il libro in protection 1 ok avevo già fatto il libro in protection 1 se non sbaglio dove l'ho messo mi sa che non l'ho fatto più io l'avevo fatto mi ricordo di averlo fatto il libro poi l'avevo fatto anche in un video quindi eh protection 1 mi sa che mi sa che è morto il mio libro protection 1 mi sa tanto di sì mi sa tanto di sì se lo vedete voi scrivetelo eh non ne ho idea bene ora ancora avevo fatto ah ho fatto il caschetto protection 1 ok andiamo a prendere ehm altre librerie fare altre librerie ma ne ha ok possiamo fare altra carta altra bellissima carta e i libri si fanno ehm così così e 21 21 ehm 15 ehm 15 ehm sono 15 6 7 7 8 9 20 21 21 niente vediamo come si faceva un ebook ah andiamo ok bene facciamo così e così almeno facciamo 21 libri ci lasciamo due libri così ne mettiamo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 6 e olè non so quanti librerie mi fa me ne fa 6 di librerie bene 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 andiamo in in mini immediato proprio in una maniera ehm super iper veloce non so anzi anzi qua pure voglio fare così ok vediamo un attimo ho abbastanza esperienza ehm unbreaking 1 smite 1 efficiency 1 facciamo efficiency 1 e smite protection power punk 3 ok punk non so cosa sia protection 1 anche ancora protection 1 protection 1 protection 1 non so se mi ha inviatato altro ma vabbè prendiamoci questi libri enchantati così quindi raga che vedevo di ehm niente continuiamo ad enchantare roba andiamo a toglierci i piedini e a mettere eh protection 1 e alla spada ci penseremo dopo ehm e efficiency mamma mia che sto fa ok e adesso ho in mente di fare la spada di niente rite ma speriamo che me la faccia fa perchè se no ovviamente non so che vedevo di e non mi fa la spada di niente rite quindi la devo convertire in ehm niente rite la devo convertire a da smite template devo fare lo smite template quindi io farò lo smite template off camera perché mi ci vorrà un po' era un bordello e nel nuovo nel nuovo episodio vi farò vedere la spada di niente rite fatta e creata già presa anzi vi faccio vedere anche lo smite quello là il template così vedete che ho lo smite template faccio la spada in diamanti nel video e vi faccio vedere tutto quanto noi ci vediamo ragazzi in un prossimo episodio iscrizione campanella e like ozzo ciao ciao